DIGITAL DENTAL DAY I DIGITAL DENTAL DAY sono giornate dedicate all'odontoiatria digitale e sono pensati per accogliere le esigenze di ognuno. Sono utili a chi non ha familiarità con il linguaggio digitale per avvicinarsi e capire, ma anche a chi ha già dimestichezza con le nuove tecnologie e vuole approfondire l'argomento. L'evento ha visto la partecipazione di numerose aziende leader del settore, tra cui AbutmanCompatibili.com, AR Radiology, CFD Evolution, Dentitalia, DentSply Sirona, GC Italia, Johnson & Johnson, Kulser, Curarai Noritake, La Struttura, Orisline, Procter & Gamble, Ricordati e le associazioni Ayo e Andy. Tali aziende, in occasione della giornata, hanno esposto i loro prodotti all'avanguardia, dando la possibilità ai professionisti di vedere, conoscere e provare gli ultimi ritrovati digitali. Durante il Digital Dental Day si sono susseguiti diversi workshop organizzati dalle aziende partecipanti, trattando tematiche di grande interesse e sensibili ai trend del momento, un fattore che ha reso ancora più attuale questa giornata. I professionisti che hanno partecipato all'evento hanno inoltre potuto vedere in esposizione le attrezzature e i materiali tecnologicamente più innovativi nel panorama digitale del dentale, grazie alla presenza di una sala espositiva. L'evento si è tenuto presso l'hotel Hilton Garden Inn, struttura di grande prestigio che ha contribuito alla riuscita dell'evento. Infodente vi dà appuntamento alla prossima tappa del Digital Dental Day, il 6 aprile a Cagliari, presso l'hotel Regina Margherita.